In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Bentrovati carissimi fedeli per questo commento al Vangelo di Domenica. Domenica la seconda domenica, dopo Pentecoste, viene appena dopo la festa del Corpus Domini e prima della festa del Sacro Cuore. Il lebrano di Vangelo è preso da San Luca, dal capitolo 14, versetti 16-24, la parabola degli invitati a cena. In quel tempo disse Gesù ai farisei questa parabola. Un uomo diede una grande cena ed invitò molti all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati venite perché è già pronto. Ma tutti a una voce presero a scusarsi. Il primo gli disse ho comprato un campo e ho bisogno di andare a vederlo. Ti prego, tienimi per scusato. Un altro gli disse ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli. Ti prego, tienimi per scusato. Un altro gli disse ho preso moglie, perciò non posso venire. Al suo ritorno il servo riferì al padrone tutto questo. Allora il padrone di casa di rato si disse al suo servo esci in fretta per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, i storpi, i ciechi e gli zoppi. E disse il servo padrone è stato fatto ciò che hai comandato e ancora c'è posto. E il padrone al servo esci per i viottoli e le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa si riempia perché vi dico nessuno di quelli che erano stati invitati e che non ti gusterà della mia cena. Ecco dicevo carissimi fratelli che questo brano di Vangelo lo leggiamo tra la festa del Corpus Domini e la festa del Sacro Cuore. Quindi tra due punti, tra due momenti liturgici che parlano del grande amore di Gesù per l'umanità, di Gesù per noi. E il banchetto, la cena di cui si parla in questa parabola ha a che fare con l'Eucarestia, col banchetto dell'Eucarestia dove il Signore mette a disposizione tutti i Suoi beni di grazia. L'Eucarestia è veramente il banchetto più ricco che ci possa essere su questa terra. Un banchetto di vita che trasmette la vita non soltanto materiale ma soprattutto quella spirituale e vita non di oggi, non per il domani, ma per sempre, per tutta l'eternità, di vita vera, di vita piena, di comunione col Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questo banchetto era stato offerto in primo luogo, il banchetto della vita era stato offerto agli ebrei, quelli erano gli amici, ecco i primi invitati. che purtroppo rifiutano, rifiutano con delle scuse banali. Bisogna tenere presente che presso gli ebrei gli inviti venivano mandati molto tempo prima, in modo che una persona potesse tenersi libera e venire, oppure si preparasse appunto a far parte di questo lieto evento, ecco un banchetto, una cena. Sono lieti eventi in ogni caso, tra amici, specialmente poi il banchetto eucaristico, il banchetto della vita preparata da nostro Signore con l'offerta del suo sacrificio, con l'incarnazione, preparata da tempo da Dio Padre, che mette a disposizione tutto il suo amore e la fatica anche per poterlo mettere a disposizione degli uomini. Da tempo il banchetto era preparato, nella mente di Dio e poi nei fatti storici raccontati dall'Antico Testamento e infine Giovanni Battista, questo servo che viene a dire al popolo santo, al popolo eletto, il Messia è già qui, è già presente, è in mezzo a voi, andate l'incontro e riconoscetelo come l'agnello di Dio che viene a togliere il peccato del mondo. Questi primi invitati sono gli ebrei. che dicevo rinunciano per delle scuse banali, ho comprato un campo, ho comprato dei buoi, mi sono sposato. Certo, i primi due dicono tienimi per scusato, c'è una certa forma di educazione, non è proprio educato rinunciare all'ultimo momento, nelle cene e negli inviti è così, non è proprio educato, ma si scusano in qualche modo. il terzo proprio non si scusa neanche, ho preso moglie, punto e basta, cioè ci tengo alla mia festa, alla festa che ho preparato io per me e per i miei invitati. allora il Signore fa un secondo invito e dice vai nelle piazze, nei crocicchi delle strade e porta dentro chi trovi, anche se sono imperfetti, cioè anche se non sono il popolo eletto, sono poveri di grazia, sono zoppi perché non camminano bene nella via della vita, sono storpi, sono ciechi perché non vedono la verità, eccetera, tu chiamali e falli entrare. Questi sono i pagani, quelli della seconda ora, gli apostoli andranno in tutto il mondo a chiamare coloro che ebrei non erano e quindi li portano nella chiesa e sapranno apprezzare il banchetto della vita. All'ultimo, il terzo invito, invece, siccome c'era ancora posto, è per tutte quelle nazioni, tutti quei popoli che era impensabile che potessero far parte della sala del banchetto, entrare nella sala dei commensali e far parte del banchetto della vita. Popoli e culture che sembravano proprio all'opposto, agli antipodi rispetto al cristianesimo, alla fine dei tempi entreranno, costringeli a entrare, non tanto perché si fa violenza su di loro, ma perché con i miracoli di grazia, con l'esperienza della bontà e della misericordia di Dio saranno proprio costretti a riconoscere che Gesù è il Signore e che tutti gli altri idoli, tutte le altre false divinità non sono nulla al suo confronto ed entreranno prodigiosamente, inaspettatamente loro che si nascondevano tra i viottoli e le siepi perché si vergognavano oppure perché noi non li ritenevamo proprio adatti a questo entreranno per grazia di Dio anche loro nella sala dei commensali. ma coloro che hanno rifiutato per loro non c'è speranza, non ci sarà speranza. Tutta la parabola è proiettata al giudizio che dà il Signore alla fine. Ebbene, cari fratelli, diciamo che molti antepongono antepongono al banchetto di Gesù, al banchetto della vita altri interessi materiali o anche personali. Il discorso del mi sono sposato perciò mi sposo quindi non posso venire anche se lo sapevi tempo prima. Mettiamo davanti al Signore i nostri interessi personali. Stiamo attenti a questo perché in questa tentazione si nasconde si nasconde anche in noi. La falsa Chiesa di oggi in verità anche se rappresenta come in un teatro diciamo così il banchetto della vita in realtà non ha più in se stessa il pane della vita la presenza del Signore non c'è più. Quindi è soltanto una rappresentazione vuota perché hanno messo al posto del Signore hanno messo i loro interessi umani. Si tratta ormai soltanto di una religione umana una religione che si regge sulle lobbies che si regge sulle amicizie si regge sull'interesse di questa terra sul Vangelo di questo mondo e non più sul Vangelo di Cristo. Là non troveremo il pane della vita. Oggi il fedele deve discernere dove andare a cercare il pane della vita. Lo sapete quello che noi stiamo dicendo e predicando che la Chiesa è là dove c'è il vero vicario di Cristo. Il Signore ha scelto Benedetto e non Francesco come il vero vicario di Cristo intorno al quale si edifica e sul quale si edifica la vera Chiesa nella quale possiamo trovare il banchetto della vita i sacramenti specialmente il sacramento dell'Eucarestia che ci prepara a ricevere il banchetto ad entrare nel banchetto eterno del cielo. Nella falsa Chiesa non c'è più la grazia di Dio non ci sono più i sacramenti è una Chiesa tra virgolette perché non dovrebbe neanche più essere chiamata tale è una Chiesa che ha scelto come fondamento il mondo gli interessi privati e le illusioni delle apparenze sia lodato Gesù Cristo in nome dei Patris e dei Fili e Spiritus Santi Amen